Sabato 25 febbraio torna lo storico Carlevedra Kunis. Alle 14.30 festa dei bambini in maschera con spettacolo e merenda. Alle 15.30 maschere e mascheroni al castello, laboratorio creativo per i bimbi dai 4 anni. E poi investitura e consegna delle chiavi della città alle maschere racconigesi. Dalle 19 apertura street food. Alle 20 sfilata statica notturna dei carri allegorici. Alle 23.15 premiazione del carro più bello. Ma non è finita, si continua a fare festa sotto l'ala mercatale con animazione del DJ Gasta, cocktail bar, animazione Lucchino Voice. Ti aspettiamo in maschera a racconigi.